Sta affrontando le ultime curve Fernando Alonso per portare la rossa davanti a Tunti, davanti a Kimi Rai per lì dietro, vedete, nel lungo rettilineo Hamilton con Vettel che si fa vedere ma non ne ha per attaccare un bloccaggio davanti di Bianchi, Poglia, ottimo per Hamilton, ovviamente ma vittoria, vittoria, vittoria per Fernando Alonso che vince nel Gran Premio di Cina, grandissima vittoria per Fernando Alonso, un Vettel mette nel murino la Mercedes ma non ce la fa prenderlo, Poglia per Hamilton, alle spalle anche di Raikkonen che è arrivato in seconda posizione, Vettel si guarda Hamilton, come dire, ancora un attimo e ti passavo, ma non ce l'ha fatta, giù dal Poglia su questa Vettel, vittoria straordinaria dalla Ferrari, vittoria grandissima di Fernando Alonso che risponde così alle grudine che sono arrivate dopo il Gran Premio di Balesia, andandosi a prendere la vittoria, andandosi a prendere la leadership nel campionato con, in seconda posizione, terza posizione del campionato con Fernando Alonso che ha fatto davvero una gara straordinaria con un passo pazzesco quando Stella gli ha detto